Musica Pieni Gringo, goditelo E' l'ultimo sorso Pensalo sulla ferita Tu come siete delicati voi Yankee A meno a storie che non ti fa voi tanto Eh, dici bene tu, t'hanno mai sparato nel culo Via La tua idea di seguire la ferrovia Fammi retta Gringo, dobbiamo prendere quel treno se vogliamo uscire di qui Come credi dire tu, Giorno? Animale Beh, di notte i treni non camminano E' pieno di malviventi Qui dappertutto ci sono imboscate Se noi seguiamo la ferrovia Accidenti al giorno che t'ho incontrato Era un signore prima No, eri un morto di fame come adesso Si, un morto di fame ma signore Un morto di fame ma signore Abrago Altemi Ancora Blak Di 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 Grazie a tutti. 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 Ma che fai, leggi? Ma... Spiacente, signore, ma qui non ci sono più biglietti. E chi ce l'ha i biglietti? I bagarini. C'è la rivoluzione, il mercato nero. E questi bagarini dove sono? Ma dove ci fai? Fidati, gringo, è tutta gente per bene. Qui vieni. Don Pedro Arista agli ordini. Beh, il progresso, gringo, prima era anche peggio. Ci servono due biglietti di terza classe per Durango. Bene. Durango, Durango, terza classe. 20 pesos. 20 pesos. E dove si trovano 20 pesos? Avete i cavalli? Sono uno schifo, però potete venderli. E' una grande occasione, signore. Vengo a vedere. Ecco. No, no, i cavalli sono questi. Eccoli qua, due, puro sangue. E' una dentatura perfetta, si vede subito, signore. E poi, guardi un po' che garretti. Hai mai visto due garretti come questi? Sa che fanno 80 miglia con un sacco di alena? Ah, l'occhio è vivo, lucidissimo. Due cavalli da rodeo non si stancano mai questi, signore. Ecco, grazie. Ma come 20 pesos per due cavalli come questi? Ma fanno schifo, signore. Lascia perdere. 20 ci basta. Ecco, ti 20 pesos, Pedro Arista, dà ci biglietti. E no. Non posso, signore. 20 pesos non bastano più. Ora ce ne vogliono 40. C'è molta richiesta per Durango. Brutto, Fidrico. Il tempo vola, i prezzi salgono. E' la rivoluzione. Beh, allora. 20 pesos. 20 pesos? Si, ma compresi i cinturoni. Ah, tanto. Eh? Ma si, a che ci servono? Ci servono per il treno quei soldi, andiamo. E sono 40. Non bastano ancora? Com'è bella. Buon viaggio, signore. Che re va a sciacallo. Lei che diavolo ti prende? Ci risiamo? Eh? No. Guardavo quei due. Sono americani, come me. Ma tu non sei un americano, sei un pezzente. La terza, è laggiù. Ah, è laggiù, non è qui. Scusate. Grazie. In vettura, si parte! Si parte! Si parte! Oh, oh. Eh, beh, che c'è? Che è successo? Guarda, li vedi quelli? Eh? Parla piano. Ho una mezza idea su quei tipi lì. Mezza? Menorale. L'ultima volta che l'hai avuta intera, siamo finiti in Guatemala. Amico, l'idea del Guatemala è stata tua. Io non ho fatto altro che venirti dietro. Eh, no, eh. Sono io che ho seguito te. Tu hai detto che c'era il platino in Guatemala. Sì. Io ho detto va bene, andiamola a prendere. Giusto? Eh, tutti possono sbagliare, no? Ah, dai, amico, che ora c'è il petrolio che ci aspetta nel Texas? Senta. Vacci solo, io torno a casa. Vorresti sciogliere la società? Se metti niente con niente, cosa ottieni? Niente. Io non sono socio di nessuno, hai capito? Questo fatto del petrolio è come il platino, non mi freghi più. Eh, fa come ti pare. Io vado a cercare il petrolio. E tu va dove vuoi. Forse ci vado a cercare il petrolio, ma non con te. Voglio ricominciare da zero, pulito come una colomba. Felice, ce l'hai mezzo sigaro? Mezzo sigaro? Ma se mi sono fumato anche le calze? E tu vai? Ehi, ragazzino, mi piace la sierra. E' bella, sai, è piena d'oro, i palliti, le pecore, guarda, guarda. Ti piace viaggiare, guarda, bravo. Texas? Louisiana? Colorado? Ma caccio molto. Una ferita, come direi? Un colpo pazzo, direi. Posso presentarmi? Piacere. In terra straniera fa piacere vedere due compatriotti. No, no, no! Io sto tornando. Torno dal Guatemala, dove ho trovato... Un accidente ho trovato. Un sigaro? Prego. E' un gran buon sigaro, signora. In Guatemala non se ne trovano, non si trova niente da quelle parti. Dipende da quello che si cerca. Io, per esempio, sono sempre dove tutto è a portata di mano. Non avete fatto colpo su quei due. Già, ma spero di farlo su di voi. Americana? Non mancatevi di rispetto, sono francese e puro santo. Ma voi siete ridotto da far pena. Perché? Si vede? Più che vedere si sente. Non siate stupido, potete restare. Mi sono abituato a ben altro in questo dannato paese. Fate bene a lasciarlo. Non starmi dirlo, ma è un paese pieno di pidocchi. Ah, non lo lascio affatto. In Messico ci sono cose molto interessanti che voglio conoscere. Le donne sono curiose per natura. Io lo sono per professione. Tutto quello che succede vi interessa. E del Messico cosa vi interessa? Panciovilla, per esempio. Siete mattati? Non volete che ci fucilino a suoi piedi? Panciovilla è il capo dei rivoluzionari, non lo sapete? Questo treno è pieno di soldati. Sono una giornalista e so cose su questo treno che non immaginate neppure. Quei due là, per esempio, sono due funzionali di una fabbrica d'armi degli Stati Uniti che ha rifornito di munizione l'esercito di Porfirio Dias. Hanno voluto oro. C'è una cassaforte piena d'oro che viaggia con noi. Allora, compadre. Come va, amico? Fatela. Allora, cos'è? Dove vai, amico? Ma no, niente, scendo perché mi fa male il treno. Fa male il treno. Fa male il treno. Nessun passeggero, possiamo ripartire. Che fretta, amico, calma. Vai dall'altra parte, presto. Ma insomma, mi state prendendo delle libertà o mi sbaglio? Sbagliate. Vi pare che sia il momento di pensare a queste cose? Se non state giù, vi fanno fuori. Perché vi preoccupate tanto per me? Beh, io... Sto occupato! Viva la rivoluzione! Ma ha detto, viva la rivoluzione! E con questo casino non si sente niente! No, no, finito! Porca miseria! Porca miseria! Siediti tu! Avanti! Avanti! Ora, cerchi! Caricatela sul carro e partiamo prima che arrivino i rinforci! Dai, forza! No! No! Lasciami! Lasciami! No! Guardate che ho trovato! E' bravi! Bel colpo, muchachos! Il generale sarà orgoglioso di voi! Le parti! Dopo! Quale generale? Che ne so, il Messico è pieno di generali! Andiamo a cavallo! E' bravi! E' bravi! E' bravi! E' bravi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che ti faccia schifo, no? Siamo ancora soci, gringo. Soci alla pari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Angua. Allora, se siete d'accordo, posso tornare a Città del Messico con una scorta che voi mi fornirete e la milanerò direttamente col mio amico, il generale Porfirio Dias. Ma vi ripeto che qui non ci sono rivoluzionari. L'assalto al treno è stata opera di banditi, di volgari delinquenti. E poi, volete proprio farmi perdere i gradi? Me ne frego, dei vostri gradi! Pretendo che un cittadino americano venga rispettato in questo lannato paese! Mi hanno derubato di ogni mio avere su quel treno e chiedo solo di poter raggiungere gli Stati Uniti dignitosamente! Vi prego, calmatevi, signore. Vedremo quello che si potrà fare. Ma quando? Subito, signore, subito. Devo firmare una ricevuta? Non importa, signore, non importa. È un mio contributo personale alla giusta causa del generale Porfirio Dias. Glielo dirò. Beh, quanto ha mollato questo? 50 peso. Ah, bene. Altri tre commissariati così siamo a posto, andiamo a festeggiare. Piano, amico. Questi soldi servono a ben altro, lo sai? Eh, quanto credi che costino le informazioni qui? Per mezzo peso ti danno la moglie, per un peso ti danno anche la nonna. E quanto costa la figlia? Eh, amico, accontentati della nonna. Vieni, andiamo. Ah, mi raccomando, lascia parlare a me. Io conosco profondamente la psicologia della mia gente. Buffa! Buongiorno. Due. Subito. Te l'ho detto che siete delicati voi. Guarda. Salve. Beh, voi mulattieri sapete molte cose girando per le montagne, eh? E fate bene tenere la bocca chiusa per campare a lungo. Ma, ma qualche volta parlando si può fare un favore a qualcuno di molto importante che può essere riconoscente. Tu, per esempio, potresti fare un grosso favore al chefe, portando da lui quel gringo laggiù. È disposto a pagare molto per riavere la sua fidanzata, quella del treno, che i banditi e i patrioti gli hanno portato via. Forse mille pesi, o forse due mila, chissà. In fondo al chefe potrebbe interessare. Tu sai dov'è il rifugio del chefe, vero? Ecco qua. Allora, glielo facciamo questo favore al chiese? Eh? Sì? Bravo. Fatto. Che c'è? Lassa di idiota, l'hai ubriaca? È colpa mia se non regge l'autol questo pezzetto. Ehi, amico, non facciamo scherzi, eh? Vieni, ci penso se li hai presi, eh? Ecco, così, bravo. Vedrai che il chefe sarà fiero di te. Vieni, andiamo. Ecco. Conosco uno che ti può essere. E dov'è questo uno? Ecco. Seguito. Ecco. Non bel c'è? Non bel c'è chi c'è chi. Ecco. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info O la sa tutto www.mesmerism.info Conoscevi profondamente la psicologia del tuo popolo Perché te la prendi con me? Ce n'hai anche tu, l'abbiamo scelta insieme, no? E poi bisogna capirli, sono sotto sviluppati Accomodati amico, da quella parte Giù! Volevi parlare col chefe? Col vostro permesso Posso? No! E chi ti dice che il chefe voglia parlare con te? Abbiamo una cosa... Nessuno ti ha interrogato Abbiamo una cosa importante da dirgli A che proposito? La cassaforte Che cosa ne sai tu della cassaforte? Niente So solo che non riesci ad aprirla perché non ha le chiavi Le hai tu le chiavi? No! Sta zitto tu! Sappiamo però come si fa ad aprirla Sopportare gli strali dell'iniqua fortuna Ingoiala! Che cosa? La chiave! Chefe! 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 Hai il sonno un po' duretto E beh ma tanto non Giù a terra! A terra ho detto! Sono arrivati Chefe! Li ho visti Molto piacere Scusi Seduti Se ha fastidio la gente alta Assaggio Che vieni a fare qui? Veramente mi ci hanno portato Ti ci hanno portato perché volevi parlare con me E tu? Ah no io io sto con lui non c'entro La fidanzata è la sua Che fidanzata? Quella che era sul treno L'avete presa voi L'ho visto benissimo Il chefe non tocca d'onde E allora chi l'ha presa? Ma quel porco di eraclio Sta sempre a pensare alle femmine Che schifo Ah peccato Eravamo anche disposti a pagare un riscatto Per riaverla E come dire Uno scatto Quanto? La metà dell'oro Che sta nella cassaforte Quale cassaforte? Quella che avete preso sul treno Noi abbiamo le chiavi per aprirle E senza chiavi? Non si può aprirle La cassaforte se l'ha presa il lobo La ragazza se l'ha presa il eraclio Però io adesso ho le chiavi Noi vi assicuro che Le chiavi Anche se volessimo Non te le potremmo dare E perché? E perché? Perché? Perché ce ne siamo? Visto Luca Non parlare Ah non volete parlare? Tanto peggio per voi Mi sa tanto che se la chiave non è uscita adesso Io invece credo che la mia la recupero presto Io invece credo che la mia la recupero Allora mi si è sciolta la lingua Bastardi Se ci ammazzate non le avrete mai le chiavi Ne ho abbastanza So facciamola finita Giù le armi Tirate subito fuori qui poveri diavoli Devono avere un caldo terribile là dentro Per quanto Una buona sudata fa sempre bene al fisico Io faccio un bagno turco Ogni qual volta me ne capita l'occasione Lo trovo un ottimo corroborante Bruttavia Via via Con la violenza non si risolve mai niente Se fra voi due c'è stato un malinteso Vi consiglio di discuterne da gentiluomini E la ragione prevarrà Insomma tu che ci fai qui? Che diavolo sei porcaccio mondo schifoso? Detesto il turpiloquio In quanto alla sua domanda Mi chiamo Brown Soffro di insonnia E non mi faccio mai gli affari miei Per costituzione Allora Qual è il vostro problema? E a te che te ne frega? E adesso Me lo dici dove sta quella dannata cosa? Non lo so Te l'ho già detto Si calmi Si calmi Piuttosto perché non cerca di interessarlo al suo affare? Va bene Vieni qua Il 50% non hai voluto Ora ti diamo il 10 Se apri il becco e ci racconti dove sta questo lobo Affare fatto Datemi il 20 E andiamo ad attaccare il lobo nella sua tana Benissimo Vedete come si aggiusta tutto Quando si discute da esseri ragionevoli? Le mie congratulazioni a tutte e due Congratulazioni Grazie Congratulazioni Congratulazioni Grazie Venga questa Ora Scusatemi Ho da fare Molte grazie signore Come è andata? Tutto bene ma la chiave è ancora niente Allora preparati Si va dal lobo Avete sentito ragazzi? A cavallo Andiamo dal lobo No Non hai capito male Dal lobo ci andiamo noi tre soli E' meglio Si si Allora avete capito male Noi andiamo dal lobo Voi invece rimanete qui Intesi? Ehi Kev Ma sei sicuro che da questa parte? Sicurissimo E come fai a saperlo se è tutto uguale? Ti sbagli Gringo Tu lo vedi uguale Ah Io vedo un polverone Si stanno seguendo? Saranno almeno una ventina di cavalli Meno Dodici La aspetteranno la notte per attaccarci E perché dovrebbero farlo? Se sono gli uomini di questo bastardo per le chiavi No Non è per quello Gli devo tre mesi di paga al retrato Va a dormire Faccio io il primo turno Non mi fido L'ultima volta che sei rimasto di guardia Tu ti hanno lasciato in mutande E tu allora? La notte prima ti avevano levato il dente d'oro senza svegliarti Beh fingevo di dormire Se no mi ammazzava Magari Morto tu tranquillo io Senti che parla Senti che parla Senti che parla Maledetti bastardi Te l'avevo detto io Eh l'avevi detto e allora? Da qua Da La vedo pronto Lo dici sempre Ma questa volta hai fatto centro Io faccio sempre centro La vedo pronto Ehi! Potete venire giù, signori, c'è stato pericolo! E vai! Una notte movimentata, vero? Movimentata a un cavolo! Possibile che non vi fate mai gli affari vostri? Direi che è una bella fortuna per voi che non me li faccia. E poi non ci riesco. Vedete, non posso farne a meno, è una cosa più forte di me. Sì, va bene, ma adesso che è morto il chef, è chi ci porta dal lobo? Dunque, vediamo un po'. Forse ho qualcosa che può servire. Bella macchina. Quanti cavalli? 12. Che ti avevo detto io? Ah sì, eccole qua. Le carte ufficiali dell'Automobile Club. Sono aggiornate, naturalmente. Dovreste procurarvele. Dunque, vediamo. Il chef vi stava portando in questa direzione, il che vuol dire che cercava di raggiungere questa catena montagnosa a nord-ovest, dove c'è un solo posto abitabile, un piccolo villaggio chiamato Siemposuelos, che in spagnolo significa cento piccoli pozzi. Sì, è soltanto qui che può trovarsi il lobo. Il villaggio è abbandonato da anni. Se fossi in voi, ci proverei. Ah. Adesso ce lo dovete dire voi quello che ci conviene fare? Temo di sì. Ma lo faccio volentieri, glielo assicuro. Noi invece facciamo quello che ci pare. Un momento, signore. Come avete detto, nord-ovest, vero? Nord-ovest, in quella direzione. Ah, no. Chi diavolo sarà? Fatti i suoi. Ma per chi ci sta dietro? Sempre fatti i suoi. Come ha detto che si chiamava quel paese? Dove. No, no, no. No, no, no. E allora facciamo una cosa. Tu ti tieni la cassaforte e io mi prendo la ragazza, d'accordo? No, i patti sono chiari. Al chefe non gli diamo niente. E tutto quello che abbiamo metà per ciascuno. Io ho una parola a scuola. E che vorresti fare allora? Continuare a marcire in questa tappaia? Ho solo una parola, ho detto. Metà dell'oro e metà della ragazza. Quando avrai la metà dell'oro potrai pagare mettere il riscatto della ragazza e prenderla tutta per te. È chiaro? Ho trovato. Ma che c'è? Che succede? Il cannone. Cosa c'entra il cannone? Possiamo aprirla col cannone, no? Sicuro? È un'ottima idea. Gonzales! Gonzales! Vieni fuori, Gonzales. Ti vuole il lobo. E che cosa ho fatto? Tu eri caloniere con Porfirio Dias? Ma queste sono cose passate. Poi ho disertato. Sì o no? Ebbene sì. Appartenevo al primo e migliore reggimento del generale Porfirio Dias. Andiamo. Cammina. Andiamo. Andiamo sì. L'hanno tirata fuori e la stanno portando contro un muro. Per farci cosa? E che ne so? Che faccio? L'indovino. Va a vedere. Ah, eccolo là il lobo. E c'è pure, c'è pure quell'altro con la ragazza. Cosa? Accidenti, quanto è bella. Che ne pensi tu? Ce la faremo? E chi lo sa? Ma io invece lo so e ti dico che ce la faremo. Tu devi solo farlo sparare e mirare dritto. Dritto più che puoi. Hai capito? Non mi far perdere tempo. E va bene, d'accordo. Io ci provo. Ma se lo faccio sparare, allora voglio i gradi. Sì, i gradi. Da colonnella. E va bene, avrai i gradi. Però se lo fai centro, te li disegni sulla fronte col piombo. Io dico che ce la fanno. E io dico di no. No. Ma ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Come dodici? Dobbiamo essere tredici. Ne manca uno. Chi è che manca? Manca qui lì. E dove è quel vigliacco? L'hai ammazzato tu ieri. Ah, sì, è vero. Ma ora come ci fanno? Non abbiamo altri ufficiali. Beh, promuoviamo qualcuno. Gonzales, il cannoniere. Ma in fondo il cannone l'ha fatto sparare. Vai tu. Ma perché? Bisogna per forza essere in tredici. Perché il tredici porta sfortuna e a qualcuno andrà male. Ci prendiamo sotto braccio tutti intorno alla tavola. Così stretti da non lasciare uno spiraglio nemmeno per una pallottola. Si spegne la luce e io tiro per aria una pistola carica. Poi si riaccende la luce e siamo rimasti indurici. Molto divertente, vero? E' da morire da rite. Molto. Eppure io ti ho sparato da qualche parte. Lo giurerei. Ti devi confondere con qualcuno l'altro. Ecco Gonzales. Ecco qua il nostro Gonzales. Sei stato davvero bravo. Voglio farti un grande onore. Parteciperai al nostro circolo della muerta. Molte grazie, mi general, però credo che non lo merito. E poi non sono nemmeno ufficiale. Non posso. Vieni qui, buono. Vieni qui, buono. Petro, alzati. Ehm... Tu? Cosa sei? Colonnello, generale. Oh. Sei negrato. Perché? Che ho fatto? Niente. Per questo ti negrado. Ecco qua. Eh. Tieni, ora siete tutti i due capitani. Avanti presto, non perdiamo più tempo. Tieni, capitano. Sì. Sì. Sì, che ne siano. Era proprio il momento di farmi capitano. Sì, che ne siano. Eh, no, per me va tutto bene. Scusa, Lobo, non hai per sfiducia, ma... E chi c'è sicura che non sei tu a sparare approfittando del buio? Sentirai il rubore della pistola che ricade sulla tavola. E ricordati, muore sempre quello che ha più paura. Ah, beh, allora io non... Vamos, prepararsi! Speghiere! Accendere! No, 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 no. Listo, capitano? È andata bene. Compañeros, il capitano González è morto come un eroe al tavolo dell'onore. Dobbiamo bere alla sua salute un bicchiere. O anche due. Muchachos! E ora siete benvenuti nella vostra banda. Faccio, aspettate a portarvi a questa carogna, Cappucci! Portatelo via, muovetevi presto! Non vi disturbate! Faccio, sì, sì! Andate, andate! Oh, bravo! Ehi, quanto è successo? Hai venuto? No, da dove è che è morto? Dai, portatelo. Giù. Da lì. Ehi. Chissà perché da morti si presa più che da vivi. Ah, qui. Via adesso, la piazza è di là. Sì. Hai recuperato la chiave? Sì, da un pezzo, tu. Sì, certo. Senti, facciamo a cambio. Io prendo l'oro e tu ti prendi la ragazza, eh? Intanto cominciamo a prendere l'oro. Vabbè. Eccola lì. Tutta per noi. Sul treno! Io ho sparato sul treno. Manuel, Garcia, andiamo! Eccoli là giù! Alla sala. Eccoli là giù la ragazza che non sono tutti i bisogni più consapevoli. Ma non credi che abbiamo fatto male a lasciare tutto l'oro all'oro? L'oro non mi interessa. Io ho te e la rivoluzione. Le due cose più belle che esistono al mondo. Sì, però era tanto quell'oro. Questa portasigari deve aver portato fortuna al suo proprietario. Io non l'avrei citato via. Vieni, porterà fortuna anche a te. Ne sono sicura. Che donna. Hai visto? Ha capito tutto. Beh, adesso che ha capito, che facciamo? Lei ora sa che noi ci stiamo. Noi sappiamo che lei ci sta. È tutto più facile, no? Più facile cosa? Che ce ne frega noi se ci sta o no? Comunque se sta con qualcuno mi sembra che sia con quel messicano lì. Con lui non ci sta, hai capito? È una donna seria, non ti permetto. Vuoi fare a cazzotti, amico? Oggi no, fa caldo. In ogni caso ricordati che lei non ci sta. Sbaglio, hai perso la testa per quella donna lì, eh? Confessalo. Non c'è niente di male. Su, vieni, gringo. Andiamo, su. Oh, sei la cosa che conosco. Guardare! Beh, guardare! rheggea! Guardare! Pompone. San ben wygllio su også. E le leftuna sono ben. E che gli occhi sono tripo... La, 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 la La, 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 Buddha. Cosa ci fai qui? Ah, vita mia! Ti amo, ti amo! Come mi piacciono le donne violenti! Ancora, ancora! Ne voglio un altro! Ancora, animale! Falco! Lasciami stare! Un massa di ubriacone! Fossi come una cabra! Lan, 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 lan! Helen! Helen! Guarda, hai perso questo sulla pista, dopo avermelo rubato naturalmente. Era solo per ricordo, lo giuro su ciò che ho di più caro al mondo, sul mio amico Luca. Lascialo stare, sono contenta di rivederti. Anch'io, amore mio. Calma, gringo, non mi dirai che sei venuto fin qua per me? Io ti amo dal primo sigaro che mi hai offerto. E anche lui è venuto qui per me, o forse vi interessa l'oro della cassaforte? Ma, di quale cassaforte stai parlando? Di quella che stava sul nostro treno. Non fare la scena, tanto reciti male. Me ne frego dell'oro! La mia vita è altrove. In una fattoria del Montana, con tanti bambini, e le mandrie, e i tori. Cornuti come te! Che bastardo! Se ne frega dell'oro lui, eh? Confesso che anche l'oro non mi fa schifo. Certo, è una bella somma. Uno farebbe qualsiasi cosa. E insomma, l'oro o me? Lui vorrebbe tutte e due. Io mi accontento dell'oro. E come pensate di entrare nel cuovo del lobo e aprire la cassaforte? Abbiamo le chiavi. Le abbiamo trovate sul treno. Sì, quei due porci compatrioti con la puzza sotto al naso, i due beccamorti che stavano sul treno, avevano le chiavi. Io e il mio amico qua... No, da soli non ce la farete mai. Ma io posso aiutarvi. Sì? E come? Convincerò Eraclio ad attaccare il lobo. Ma naturalmente avrò diritto a una percentuale. Certo, allora bisognerà dare una parte a Eraclio, una parte ai suoi, e poi a noi che rimane? Helen, non ti preoccupare, avrai la percentuale. Gringo, parla dalla tua parte, perché la mia resta mia. Scusate, signorina, ma io ho una persona al mondo che non ha altri che me, e ho bisogno. Ma chi? Io sono... Ti spacco il corso, sai. Ma, ragazzi, vedrete che non ce ne sarà bisogno. Nella confusione del combattimento prendiamo l'oro e tagliamo la corda. Questo si deve parlare. Io ci sto. Helen, brutta cagna. Perché non la racconti al capo, questa storia? Un serpe in seno si teneva. Cammina, bastardo ad un americano. Questa volta Eraclio ci farà almeno il generale. Buonasera. Ancora una volta. Sono arrivato al momento giusto. Mademoiselle. Signori. Molte grazie, signora. Ma insomma, che ci fate ancora qui? Già, è vero, ma perché ci venite sempre tra i piedi? È la terza volta che me lo domandate. Tra pochi istanti arriveranno quei banditi, richiamati certo dai miei spari. Sarebbe meglio se non trovassero né lei, né lui, né me. Lei, mademoiselle, dirà che quei due l'hanno assalita con il preciso intento di violentarla. Se mi perdona l'espressione un po' ardita. Ma se lo dice lei... No, lo dica lei. Nella collutazione lei è riuscita a strappare la pistola a uno di quei due banditi, mentre si toglieva i calzoni. Ma come vi permettete? State parlando a una signora. E lei? Stanno arrivando, via. Sì, presto. Sarà certo all'altezza del suo compito. Helen! 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 Quei due volevano violentarmi, ho dovuto farlo per difendermi. Meno male che io me la sono cavata con un calcio dove so io. Viene, tesoro. Peccato che dovrò lasciarti. Quando avrò parlato con Zapata me ne tornerò in Europa. Ma perché, amore mio? Non ti piace questa terra selvaggia? Questa vita piena di calicoli, di avventure. Possiamo cavalcare liberi come il vento, orgogliosi come il grande Condor dal becco alla pace. Va, e intanto il lobo si becca i tuoi soldi. Che vuoi dire? Quello che ho detto. Quel dritto del lobo. A voi lascia fare la rivoluzione e lui si prende i quattrini. Vedrai che lo faranno anche ministro del tesoro. Queste sono calunni. Il lobo è un grande rivoluzionario. Il lobo è un gran bastardo. E tu sei uno stupido sentimentale. Se non mi fossi innamorata di te, a quest'ora... A quest'ora cosa? A quest'ora me ne starei con il lobo, carica d'oro, come la statua di Montezuma. Sì, me l'ha detto proprio lui, sai? Chi? Montezuma? Ma no, il lobo ha detto... Cica, tu resta con me. Che appena quel fesso di eraclio torna da sapata, io apro la cassaforte e ti ricopro tutta d'oro. Ha detto quel fesso di eraclio? Sì, sì, è proprio così. Fesso. E come fa ad aprire la cassaforte? Se non ci siamo riusciti nemmeno a cannonate. Ma con le chiavi, idiota, me le fate anche vedere. Lo ammazzo! Quanto è veridio, lo ammazzo! Povera controraditore! Manuel, Garcia! Tutti gli uomini a cavallo! Attacchiamo il lobo! Sueste. Grazie a tutti! 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 No, questo non è un grillo, è una cicala, soffre d'insonnio. Invece secondo me è un serpente. Sì, è un serpente. No, sai che ti dico? Questa è una miccia. Bravo! È proprio una miccia! Questi maledetti si attaccano! Fritz von Depp! Adesso. Grazie a tutti! Adesso. Passavolko! Oh, dove sei? Vieni fuori! Per di là! Andiamo. Sì, vai, vai. E tu? Eh? Ah, sì, vengo. Chi è? Amici! Buongiorno. Che sorpresa. Non fare lo spiritoso. Vi aspetto dietro la chiesa con i cavalli. Andate. Andiamo. E non credere di comandare tu perché ce l'hai che ti guarda, eh? E allora chi comanda? Comandiamo tutte e due. E va bene, ma io mi comando... Anch'io. E va bene. I vestiti, ragazzi. Eh? I vestiti. I vestiti. Dai, dentro. Su. Dai. Portale! Canaglio! Porco di eraclio! Non avete sei cacciato! Voglio riempirvi di più. Buah! Bravo! Esci fuori! Presto. Presto. Ecco l'involgenza mia! Hai aspettato tanto, eh? Questa volta ci siamo. ρ'amore non... Chi ha mai detto di solo che portiglia él là? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lopo! Cane, dove sei? Lopo! Eraclio! Ripeti, vattene all'inferno! Però che bestia siamo stati! Lopo! 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 Buongiorno! Buongiorno amici! Mademoiselle? Buone notizie, signori! Per quattro, volendo... Dicami, non sarà mica un tentativo di corruzione di un pubblico ufficiale? No, no! E chi ha parlato? Io non ho parlato! Ecco! Allora non perdiamo tempo, se volete cortesemente caricare l'oro in quel baure... Sì, sì, signor commissario, subito! Sì, sì, signor commissario, subito! Sì, sì, signor commissario, subito! Ecco! Sì, signor commissario, subito! Sì, signor commissario, subito! Io non ho parlato di un'altra volta, ma vedo che è già in ottima compagnia! I miei omaggi, signori! È stato un piacere! Oh, i soldi! Eh, oh, i soldi! Chi si rivede? Ma voi non dovevate tornare negli Stati Uniti? E allora? Ci sto andando, mi pare! E questa chi è? È la mia fidanzata, l'avevano rapita i banditi e l'abbiamo riscattata! Non avete per caso incontrato quest'uomo? Viaggia in un'automobile rossa! Certo, è il maggiore Samuel E. Barrett dell'esercito degli Stati Uniti! Ma che maggiore? È un noto avventuriero inglese che si chiama Elias McPherson e che si fa passare per il vero Barrett! Dove l'avete visto? E chi l'ha visto? L'ho visto io, lei dormiva! Sì, andava da... da quella parte! Quando? Oggi! Grazie! Vamos muchachos! Che razza di maiale! Potremmo ancora riacciuffarlo! Dato che ora sappiamo chi è, dovrà per forza dividere il malloppo! Giusto, io ci sto! Certo! Provare non costa niente! Di qua, faremo prima! Allora! Ehi! Allora! 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 Grazie a tutti. Buongiorno. Che, eccesso di velocità? No, eccesso di faccia tosta. Spiritoso. L'hanno fregato. Non ce ne va bene una. Peccato però, in fondo non era antipatico. Dove lo porteranno? Al paese, lì c'è una guarnigione. Bisognerebbe attaccarli subito. Sei matto? Sono troppi. Per ora controlliamoli da lontano. Va a riempire le borracce. Allora! È difficile guidarla. Un giorno o l'altro gliel'insegno. Salve, sono andato. Era un brutto mestiere il tuo, eh? Eh, poverino. Mai dormire, mai una vacanza, vero? Perché non gli date una mano? Ma sì, certo. Capitano, i teones sono in rivolta. La caserma è in fiamma, i soldati uccisi. Sta arrivando l'esercito di Zapata. Tutta la zona in mano ai ribelli. E tu dove stai andando? Eh, alla guarnigione di Wattepec a dare l'allarme. E col suo permesso, Capitano. Capitano, è arrivato il suo momento. Viva Zapata! Viva Zapata? Sì, viva Zapata! Viva Zapata. Viva Zapata! Uomini! Volete che le vostre famiglie siano orgogliose di voi? Allora unitevi ai rivoluzionari e gridate Viva Zapata! Soldati! Volete salvare il Messico? Allora unitevi ai rivoluzionari e gridate Viva Zapata! Viva Zapata! Viva Zapata! Viva Zapata! Cammina! Ma si può sapere che diavolo succede? Succede che ci servono i vostri cavalli. Questa volta la rivoluzione la facciamo sul serio. Scendete. Lo so che questo è un furto, ma non possiamo farne a meno. Giù le mani! Cosa credi che abbia là sotto? Lasciala! Adios, signore. Mi dispiace molto. Eh, beh. Vamonos! Era andata così bene? Se ne stanno andando da soli e adesso Brown all'ufficiale verso il Desertort sarebbe stato un gioco da bambini. E con che li fermiamo ora? Con i sazi? Accidenti pure alla rivoluzione. Andiamo lo stesso. Forse qualcosa si può ancora fare. Senta, capitano. Ho un'idea. Lei e io ci dividiamo l'oro a metà. E io la porto negli Stati Uniti con me. Ho delle buone conoscenze alla frontiera. Cosa ne dice? Ferma la macchina. Ma... Spogliati. Spogliarmi? Senta, lei si è fatta un'idea sbagliata sul conto mio. No, l'idea è giusta. È la tua. Ma non ho bisogno di te. L'oro e il tuo vestito mi bastano. Spogliati. Beh, me lo diceva sempre mia nonna di non dare consigli agli sconosciuti. La prossima volta non ci casco. Ah, non pensarci. Per te non ci sarà una prossima volta, amico mio. No, no. Un momento, ma... Un momento. Che cosa le servirà? Ma se non sa nemmeno guidare la... Ehi, laggiù! Brown, Barrett, MacPherson, come accidenti ti chiami. Smetti quelle aria da Milord e rendici l'oro che ci hai rubato. Temo proprio che dovrete venire a prendervelo. E non mi do arie. Dammi qua questa pistola. Ci penso io che il faravutto. Mi ha sbagliato. Ci sono solo due colpi. Lascia fare a me. Senti, Brown! Se ci rendi il nostro oro, parola d'onore che ti lascio andare via! Con l'automobile, digli. Con l'automobile! E ti rendiamo anche i mille pesos di premio! No, no, quelli no, ma perché... Ma lascia... Accidenti! Mi rimangono solo due colpi. Non possiamo restare qui fino a domani. E dove andiamo? Fategli una proposta vantaggiosa. Non so, un quarto. No. Beh, in fondo se lo sarebbe meritato. Beh, sì, certo. Ehi, Brown! Ci stai a dividere in quattro? Ma come siamo diventati generosi? Fin quando l'oro ce l'ho io, sono io a fare i patti. Sapete che cosa facciamo adesso, amici? Vi do altri mille pesos. E così risolviamo questa storia una volta per sempre. Brutto porco! Eh, bravo! Lui è quello che non spreca i colpi, eh? Senti, gringo, qui bisogna giocare ad astuzia. Tu vai laggiù e fatti vedere. Lui si scopre per spararti e io lo faccio secco, eh? Dai! Cos'è, non ti fidi? Sì, ma facciamo al contrario. Dammi la pistola. Eh, va bene, ci vado io. Stai pronto, eh? Brown! Sì? Ha finito i colpi. Sennò avrebbe sparato. Io credo di no. Vuoi vedere? Guarda. Avevi ragione. Accidenti. Non ci è rimasto neanche un colpo. Accidenti. non ci è rimasto neanche un colpo. Qui bisogna fare qualche cosa perché se viene la notte quello se ne scappa. E che vorresti fare? Ci pensiamo noi, eh? Tu stai tranquilla. Gringo. Una volta mio fratello in una situazione come questa si è salvato facendosi scudo con mia sorella. Allora? Eh, beh... Eh? Sei matto? Io non faccio certe cose. No, qui bisogna per fare... che c'è... A presto. Sperma, gringo, o ti sparo. È una parola. Per l'ultima volta, gringo, fermati. Vieni fuori, bastardo. Combatti da uomo. Vieni fuori, bastardo. Vieni fuori, bastardo. Luca, Elen, venite, dividiamo. Dividiamo, dividiamo, vieni. Mi ha fatto prendere uno spavento. Dico, altro sì, ma gentil'uomo. Piuttosto, butti giù questo dalla macchina. Uno, due, tre, fuori. Vieni, allora dividiamo in quattro. No, amico, un momento, si divide in tre, la coppia conta per uno. Vuoi scherzare? La ragazza ha diritto a una parte intera, anche lei accopera. Domandiamola al signore. Senta, signore, è vero che dobbiamo dividere in quattro? O in tre. In quattro, naturalmente. Ecco, uno a lei, uno a lei, uno a me e uno a lei. A lei, a lei, a lei e a me. Bene, è stato un vero piacere. Ehi, un momento, non ci lascerete mica così, in mezzo al deserto, senza armi e senza cavallo. Dovete darci un passaggio almeno fino al paese. D'accordo, salite in mano. Grazie. Sarò dentro la monta. Si è rotta la messa in moto, dovrete spingere. Fino al villaggio? Oh, solo per qualche metro, finché non parte il motore. Allora, vabbè. Figgiamo. Su, avanti. Su, avanti. Forza. Avanti, vai. Eccola. Fermati, fermati. Ti sono scambiato. Ladro. Helen, dove vai? Scendi. No, vado con lui. Ma perché? Che ti ho fatto? Tu niente, ma lui è mio marito. Ehi. Gringo. Su, coraggio, amico. Vedrai che da qualche parte ci sarà anche per noi un po' di fortuna. Sai, gringo? Nell'Honduras conosco una miniera di platino. No, la messa! Ma no! Ma non fare così, gringo, dai! Se i mesi diventiamo ricchi, gringo! Ma perché fai così? Allora sei un tornuto! No! 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 Grazie a tutti